ciao a tutti ragazzi bentornati sul canale oggi siamo qua con una golf gt una golf 7 con i fari a led però non dinamici abbiamo fatto una bellissima attivazione facciamo un esempio mettendo la freccia a sinistra dopo aver acceso le luci abbiamo questo effetto qua vediamo anche la destra e ora tutte quattro le frecce effetto davvero bellissimo anche se non è un vero dinamico per chi ha questo tipo di faro è davvero davvero molto molto bello andiamo a vedere ora con l'apertura vedete l'effetto davvero molto carino e poi la chiusura un effetto comunque molto particolare per chi ha questo tipo di faro ragazzi se vi è piaciuto il video mi raccomando iscrivetevi al canale e continuate a seguirci ciao a tutti e alla prossima